La nostra ricchezza, il petrolio dell'Italia, si chiama turismo, 3 milioni di posti di lavoro, e si chiama pesca, 350 mila posti di lavoro. Difendiamo il territorio, difendiamo il nostro mare. Gli altri paesi che si affacciano sull'Adriatico, pensiamo alla Croazia, stanno bloccando le trivellazioni. Non mettiamo a rischio la nostra fortuna, il nostro futuro, che sono il mare, la bellezza, la pesca e il turismo. Domenica 17 aprile io vado a votare al referendum, voto sì, per difendere il nostro paesaggio, la nostra bellezza, il nostro territorio. Grazie.